buongiorno oggi vedremo insieme un esercizio come al solito questa volta relativo ai grafi grafi che avete appena iniziato con il professor corno iniziamo a prendere un esercizio proprio da un tema d'esame del passato del recente passato del 10 luglio 2017 vedremo insieme il primo punto dell'esame che di solito è il punto che dà il voto minimo per passare l'esame e in particolare vedremo i punti a e b relativi ovvero alla creazione del grafo sottostante a questo esercizio purtroppo non possiamo ancora fare punti c e d che sono più relativi alla visita del grafo in realtà si risolvono abbastanza facilmente grazie alle librerie che utilizziamo ma lo vedremo lo vedremo prossimamente vi voglio solo far notare che non siamo molto distanti dal saper risolvere tutto un esame perché il punto 2 in questo caso era un punto ricorsivo che voi in teoria dovreste già essere in grado di fare quindi aggiungendo poi nelle prossime lezioni questa piccola parte sulla visita dei grafi sarete in grado di risolvere anche tutto tutto questo questo esame in ogni caso direi che i punti a e b sono i punti più importanti almeno del punto 1 perché vanno proprio a creare il grafo ed è qui che dobbiamo andare a fare le query sul database che di solito sono la parte un po' più complicata di questi di questa prima parte degli esami e quindi andremo a vedere proprio quello che ci serve veramente per quanto meno risolvere il punto 1 allora proviamo a leggere insieme il testo questo esame trattava utilizzava il database arts mia che poi andremo a vedere contenente informazioni su una serie di opere d'arte e mostre nei musei negli stati uniti il database è strutturato secondo il diagramma entità relazioni illustrato nella pagina seguente andiamola a vedere vedete che abbiamo cinque tabelle in cui abbiamo vabbè gli artisti e le opere d'arte objects in questo caso che sono collegati da una relazione molti a molti quindi c'è questa tabella temporanea authorship scusate controlliamo come al solito il sistema di registrazione perfetto dovrebbe funzionare controlliamo anche l'audio per sicurezza ok dicevo questa tabella authorship è la tabella temporanea che mappa la relazione molti a molti tra artisti e oggetti perché ovviamente un artista può aver sviluppato diciamo così diversi opere d'arte creato diverse opere d'arte mentre una stessa opera d'arte può essere stata creata da più artisti ad esempio quattro mani dopodiché abbiamo la tabella esibizioni che modella un elenco di esibizioni nei musei in questo caso negli stati uniti e questa tabella è collegata con le opere d'arte di nuovo attraverso una relazione molti a molti modellata da questa tabella exhibition objects questo perché ovviamente un'esibizione può aver esposto molte opere d'arti e uno stessa una stessa opera d'arte può essere stata esposta in più in più mostre in musei lungo lungo il tempo modellato da questo database questa è la struttura del db che cosa chiede l'esercizio si intende costruire un'applicazione java effects che permette di interrogare tale base di dati visualizzando informazioni sulle mostre in particolare l'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni permettere all'utente di selezionare il bottone analizza oggetti diciamo così questo è il bottone che va a creare il grafo sottostante all'esercizio alla pressione del bottone infatti occorre creare un grafo che rappresenti gli oggetti e la loro copresenza nelle varie mostre il grafo dovrà essere pesato semplice e non orientato come vedete di solito negli esami vi diciamo già sempre il tipo di grafo che dovrà essere utilizzato quindi questo è già un vantaggio per voi i vertici rappresentano tutti gli oggetti presenti nel database quindi i vertici sono le opere d'arte mentre un arco collega due oggetti se questi sono stati esposti contemporaneamente nella stessa exhibition ok il peso in particolare il peso dell'arco rappresenta il numero di esibizioni in cui tali oggetti sono stati esposti contemporaneamente quindi se l'oggetto 1 e l'oggetto 2 sono stati esposti alla mostra di los angeles il 5 aprile e alla mostra di new york il 10 di aprile allora esisterà un arco tra l'oggetto 1 e l'oggetto 2 con peso 2 sono stati esposti insieme in due diverse mostra se invece questi oggetti non sono mai stati esposti contemporaneamente nella stessa mostra nella stessa exhibition semplicemente non ci sarà nemmeno l'arco quindi questo è quello di cui ci occuperemo oggi punti a e b come al solito durante un esame avete a disposizione il progetto base che contiene già un po di codice già scritto già scritto per voi in modo tale che voi possiate concentrarvi sulle parti importanti del problema e anche quest'anno anche se sarà svolto in remoto presumibilmente sarà così andiamo a vedere che cosa contiene questo progetto base beh innanzitutto contiene già un'interfaccia grafica quindi se io lancio il il ops ho sbagliato lanciarla ah sì devo cambiare la la password del db mettere la mia password lanciamo il main dicevo abbiamo avete già a disposizione un'interfaccia grafica eccola qui in questo caso noi andremo a utilizzare principalmente questo bottone per creare il il grafo e poi ci sono anche tutti gli altri componenti per svolgere il resto dell'esame poi avete già un po di codice relativo al db avete sicuramente la classe db connect come al solito più di solito un dao con almeno uno due metodi semplici già implementati dopodiché sicuramente occorrerà modificare questa questo dao ad esempio aggiungendo quello che ci serve però abbiamo già un punto di partenza in questo caso abbiamo un metodo per farci restituire tutti gli oggetti presenti nella tabella objects abbiamo anche una classe di test per il dao che possiamo provare in modo tale da vedere che tutto funzioni semplicemente richiama il metodo che abbiamo appena visto stampandoci quanti oggetti sono presenti nella tabella col punto size e anche stampandoci il primo elemento della tabella giusto per vedere che funzioni poi abbiamo nel package model già due classi che ci modellano due tabelle di interesse del database quindi seguendo il pattern urm che avete visto la classe art object che modella un oggetto e la classe exhibition che modella appunto una mostra come vedete tutte e due le classi hanno già implementato il metodo hash code equals quindi si possono aggiungere a strutture dati tipo hash map e hash set in modo corretto diciamo così e poi abbiamo il model che però ovviamente è vuoto ed è quello che dovremmo andare a riempire e poi collegare al nostro controller allora possiamo possiamo partire riapriamo un attimo il testo per andare a vedere prima cosa da fare direi che tipo di grafo ci servirà il testo ce lo dice esplicitamente il grafo dovrà essere pesato semplice e non orientato benissimo allora nel mio modello avrò sicuramente come primo attributo un riferimento al mio grafo ovviamente utilizzo l'interfaccia per definire la variabile il testo ci dice anche esplicitamente che i vertici saranno degli oggetti quindi tipizziamo questo grafo con la classe art object non basta dobbiamo anche dire dirgli il tipo di arco che connetterà questi vertici art object in questo caso il grafo è pesato non orientato grafo pesato significa che i nostri vertici saranno di tipo presumibilmente default weighted edge anche perché i nostri pesi saranno dei numerini semplici quindi questa classe default weighted edge va benissimo chiamiamolo grafo importiamo le varie classi quindi grafo l'interfaccia e default weighted edge ovviamente ora questo grafo è nullo e bisogna crearlo dove lo andiamo a creare beh dipende la prima alternativa è crearlo nel costruttore del modello quindi this.grapho uguale abbiamo letto un grafo semplice pesato non orientato importiamo simple weighted graph nelle parentesi tonde dobbiamo passargli di nuovo la classe per gli archi default weighted edge punto class importiamo il simple weighted graph e ora abbiamo appena creato il nostro grafo l'altra alternativa è di creare questo grafo all'interno di un metodo che sicuramente ci sarà sempre nel nostro modello che è quello public void crea grafo che sarà chiamato dal controllore per creare questo grafo qual è il vantaggio di mettere questa linea di codice all'interno di crea grafo è che pensiamo a esecuzioni successive del programma quando il programma rimane aperto quindi magari vorremmo ricreare il grafo sulla base di altri dati di input se noi questo grafo lo creiamo all'interno del modello viene creato una volta noi dovremmo cancellare tutto il suo contenuto per reinserire ad esempio vertici nuovi se noi mettiamo questa new all'interno del metodo che verrà chiamato al click del bottone ebbene noi siamo sicuri che ogni volta questo grafo viene cancellato e ricreato da zero ci semplifica un po' le cose quindi direi che possiamo lasciarlo il primo punto per la costruzione del grafo è sempre quello di andare ad aggiungere i vertici aggiungere i vertici è di solito la parte più semplice anche perché il testo ce lo dice esplicitamente sono tutti gli oggetti quindi tutte le righe diciamo così della tabella objects allora dovreste anche aver visto l'identity map quello che si fa di solito per essere sicuri di creare con delle new i vertici una sola volta perché ci interessa crearli una sola volta beh perché se nel caso avessimo magari qualche errorino sull'ashcode o sull'equals se noi andassimo a creare più volte lo stesso oggetto potremmo incorrere in errori e poi anche dal punto di vista delle performance se noi facciamo la new una sola volta per ogni oggetto invece di ricrearne sempre di nuovi sicuramente il nostro programma ne beneficia perché noi andiamo ad occupare meno memoria quindi che cosa si fa? di solito si prevede una mappa come attributo del modello che possa andare a salvarsi gli oggetti che noi creiamo noi li creiamo una volta sola li salviamo in questa mappa e poi tutte le volte che ci servono andiamo a prenderli da lì senza rifare una new questa mappa avrà sicuramente una chiave direi che in questo caso visto che apriamoci la classe art object questi oggetti hanno un id che è un intero e tra l'altro è anche la chiave primaria nella tabella beh direi che allora possiamo prevedere una mappa la cui chiave sia siano interi integer e i cui valori siano proprio degli art object chiamiamola id map la nostra identity map importiamola ovviamente come per il grafo adesso questa id map è nulla e dobbiamo crearla direi che in questo caso va benissimo crearla nel costruttore prevediamo una hash map integer art object importiamo hash map qual è il la procedura che di solito si attua è la procedura è questa noi andiamo a crearci questa identity map e poi la andiamo a passare al DAO chiedendo al DAO di andarcela a riempire se per caso il DAO vede che questa mappa è già contiene già degli elementi semplicemente non li ricrea e ci ritorna la mappa stessa quindi io mi vado a creare un'istanza del DAO che abbiamo già artsmia DAO DAO uguale new artsmia DAO da importare anche questa chiudiamo un po' di finestre a questo punto a questo punto purtroppo il metodo del DAO che abbiamo già che è proprio quello che ci interessa perché noi in questo caso vogliamo recuperare tutti gli oggetti per poterli aggiungere al al grafo purtroppo questo metodo non fa uso dell'identity map dobbiamo modificarlo un po' come possiamo fare? beh sicuramente passeremo a questo metodo l'identity map importiamo e qual è il concetto? noi andiamo a recuperarci tutti gli oggetti dalla tabella nel database e poi per ognuno di essi non andiamo a fare incondizionatamente una new ma ci andiamo a chiedere se questo oggetto per caso esiste già nella mappa se non esiste allora andiamo a fare la new e a metterlo nella mappa altrimenti no quindi if non esiste quindi negazione punto esclamativo id map punto contents key la chiave abbiamo detto sono gli id di questi oggetti dove recupero questa informazione? beh da questa getint quindi se questa mappa non contiene un art object che ha questo dato id allora faccio la new del mio oggetto questa qua ok faccio la new e ovviamente vado a mettere l'oggetto appena creato nella mappa cosicché la prossima volta eviterò di ricrearlo id map punto put la chiave sarà sempre vabbè la posso a questo punto prendere direttamente da art obj punto get id art obj se invece la mappa appunto contiene già questo questo oggetto semplicemente non faccio niente e vado avanti ad analizzare la prossima riga del della tabella ovviamente come vedete gli oggetti art object li vado a inserire nella mappa mappa che ricevo dall'esterno no? io ricevo una mappa vuota la prima volta dall'esterno e la vado a riempire per questo motivo non serve più ritornare una lista perché le informazioni saranno contenute nella mappa quindi possiamo prevedere che questo metodo sia un metodo void e non abbia nessuna return quindi cambia un po' il paradigma cancelliamo anche questa riga il chiamante mi da lui la struttura dati da riempire ovviamente questa struttura dati è passata per riferimento quindi io tutte le modifiche che faccio qui le vedrà anche chi mi ha passato questa mappa quindi non mi serve più fare una return a questo punto dal modello posso chiamare il metodo dao che ho appena modificato list objects a cui passo la mia mappa da questo punto in avanti la mia mappa contarrà tutti gli oggetti presenti nella tabella objects e io li posso usare ovviamente e li uso in questo caso per raggiungere i vertici quindi graphs punto add all in cui devo dire chi è il mio grafo this punto grafo e quali sono i miei vertici i miei vertici stanno nella mappa idmap punto values ok abbiamo appena aggiunto tutti i vertici al nostro grafo come vi dicevo questa parte è la più facile la parte difficile viene poi nell'aggiungere gli archi tra i vertici andiamo rapidamente a rivedere che cosa dobbiamo fare per gli archi un arco collega due oggetti se sono stati esposti contemporaneamente nella stessa exhibition e il peso è il numero di volte che questo è accaduto allora per raggiungere gli archi abbiamo sempre diciamo così tre strategie principali che si possono ripetere una più concettualmente forse più facile da implementare purtroppo non sempre fattibile vedremo perché le altre due che richiedono un po' più di lavoro sulla query SQL allora approccio uno forse il più facile quello che può venire in mente a tutti vedremo che però purtroppo funziona solo in certi casi approccio uno doppio ciclo for sui vertici e quindi dati due vertici controllo se sono collegati quindi io vado a scorrere veramente tutte le coppie possibili e immaginabili tra i vertici del grafo come posso fare questo banalmente con un ciclo for annidato quindi for art object a1 in dobbiamo recuperare i vertici dal grafo dis.grafo.vertexset ciclo for annidato for art object a2 il dis.grafo.vertexset e mi chiedo guarda il problema qua non lo so vediamo dopo e mi chiedo devo collegare a1 con a2 se sì li collego con il determinato peso quindi io qui mi potrei immaginare un metodo del dao che mi restituisca direttamente il peso tra a1 e a2 int peso uguale dao punto get peso tra a1 e a2 ovviamente questo metodo è da ancora da fare vorrei capire qual è il problema qui ah no scusate non è ad vertex ma è vertex set ok risolto il problema dicevo immaginiamo un metodo del dao che dati due vertici ci dica il peso magari ci restituisca 0 se questo peso appunto è 0 e quindi noi in quel caso non andiamo a inserire l'arco viceversa se è un peso maggiore di 0 noi andremo a inserire l'arco quindi if peso maggiore di 0 inserisco il mio arco quindi graphs punto add edge ok il mio grafo dis punto grafo il vertice sorgente a1 il vertice destinazione a2 e il peso altrimenti se il peso è uguale a 0 non aggiungo nemmeno l'arco attenzione che ovviamente con il ciclo il doppio ciclo for avremo anche le coppie invertite avremo sia oggetto 1 oggetto 2 ma anche oggetto 2 oggetto 1 ok quindi per evitare di inserire due volte la stessa cosa potrei controllare a priori se non esiste già l'arco visto che il grafo non è orientato l'arco va bene sia in un verso che nell'altro quindi se c'è già evito di reinserirlo di nuovo non mi ricordo a memoria come si controlli questa cosa probabilmente con graphs punto aspettate dis punto grafo punto contents edge ok questo metodo contents edge ci dice vediamo se riusciamo a recuperare ok ritorna vero se e solo se questo grafo contiene un arco tra il nodo sorgente e il nodo destinazione e il risultato togliamo un po' di zoom se no non si legge ok in grafi non orientati come nel nostro nel nostro caso lo stesso risultato è ottenuto quando sorgente e vertice sono invertiti quindi è proprio quello che ci serve se diciamo così questo grafo non contiene il un arco tra a1 ed a2 allora diciamo così sotto il peso recupero il peso e poi se questo grafo non contiene un arco tra a1 ed a2 vado a inserirlo magari questa if peso può essere fatta fuori ok così dovrebbe essere il flusso corretto quindi mi faccio dare il peso dal DAO se questo peso è maggiore di 0 controllo che il grafo non contenga già questo arco banalmente perché potrebbe essere il caso opposto quindi avevo aggiunto l'arco tra 1 e 2 adesso sto analizzando 2 1 se questo non è vero aggiungo il il vertice il l'arco scusate ok quindi vedete come questo approccio è abbastanza semplice concettualmente dobbiamo ancora implementarci il metodo del DAO ma vedrete che questo metodo ha una query molto semplice proviamo a immaginarcela e proviamo a effettuarla su il nostro client SQL io ho già importato il db ovviamente andiamo nella tab query allora io suppongo già di avere i due vertici quindi quello che voglio fare è capire dati i due vertici quante volte sono stati esposti nella stessa exhibition dove recupero questa informazione se andiamo a vedere il diagramma entità relazioni questa informazione sta qui ok sta nella tabella che mappa la relazione molti a molti tra gli oggetti e le esibizioni andiamo a vederla sul database contenuto vedete qui è una serie di coppie in cui il primo id è quello di una exhibition e il secondo id è quello degli oggetti quindi se io ordino questa riga se ordino per exhibition id vedete che qui sono è la stessa exhibition id che ha i d3 io so sicuramente che l'oggetto 8485 sarà collegato all'oggetto 10421 perché sicuramente sono stati esposti contemporanealmente almeno nella mostra numero 3 quindi da questa tabella riusciamo a recuperare tutte le informazioni che ci servono qual è il trucchetto per controllare se appunto due oggetti sono stati esposti contemporaneamente beh è fare il join della stessa tabella con se stessa quindi select from exhibition exhibition objects as e o uno virgola faccio il join con la stessa tabella e e o due ovviamente questo join lo devo fare nel where cosa mi chiedo mi chiedo che la exhibition sia la stessa quindi e o uno punto vediamo un po' eccolo qua exhibition id uguale a e o due punto exhibition id quindi esibizione uguale ovviamente oggetti diversi gli oggetti però suppongo già di conoscerli quindi and e o uno punto object id uguale in java avremo poi il punto interrogativo qui adesso andremo poi a riempirlo per fare una prova con degli id recuperati dalla tabella and e o due punto oggett id uguale punto interrogativo andiamo a prendere due oggetti dalla dalla tabella anche di qua va bene quindi prendiamo pure l'8435 e il 10421 l'ultima cosa che ci manca è che noi vogliamo contare quante volte questo succeda quante volte questi due oggetti sono presenti nella stessa exhibition id e quindi count asterisco proviamo a lanciare la query una volta quindi effettivamente erano stati mostrati insieme solo nella mostra numero numero tre però questa query sembra funzionare vedete che è molto semplice anche concettualmente la prendo tac e vado ad aprire ecco qua eclipse e in particolare mi vado a generare questo metodo get peso metodo get peso ritorno a un intero in cui definisco la mia stringa sql che ho appena copiato solito lavoro di sistemazione togliamo gli slash n e lasciamo uno spazio al fondo magari togliamo anche questi apici che direi che non servono slash n da togliere apici da togliere anche questo spazio qui qui ovviamente mettiamo un punto interrogativo apici da togliere punto interrogativo punto e virgola questa è la nostra query dopodichè mi copio da sopra il codice che mi serve quindi ci facciamo dare una connessione il solito try catch ops parentesi troppo al cui interno andiamo a crearci il prepared statement in questo caso dobbiamo fornire dei parametri quindi st.setint l'id del primo oggetto a1 punto get id e poi setint con l'id del secondo oggetto a2 punto get id a questo punto posso eseguire la query e andare a vedere cosa contiene il mio result set in questo caso è un account asterisco quindi mi aspetto un singolo risultato non c'è bisogno del while basta una if quindi se c'è un risultato sicuramente sarà così ma noi la if la mettiamo lo stesso andiamo a prenderlo int peso uguale res punto get int quello che ci ha ritornato l'account asterisco allora per semplicità andiamo a ridefinire questa variabile es peso cosicché ricordatevi lo spazio cosicché io qua posso scrivere peso a questo punto ho il peso lo posso ritornare return peso se per caso non c'è il risultato cosa impossibile in questo caso perché l'account asterisco al massimo ritorna 0 se non trova corrispondenza ma per non far arrabbiare il compilatore return meno 1 ok sì da fare però qua ok quindi nel caso ci sia qualche errore ritorniamo comunque meno 1 ripeto questa è solo una return per far contento il compilatore che altrimenti si arrabbia noi siamo sicuri che qui dentro arriviamo a meno che non ci sia una SQL exception l'ultima cosa da fare è ovviamente chiudere la connessione la chiudiamo qui prima di questa return e per sicurezza anche qui prima di ogni return no qui no qui non serve più perché non è nel trycatch la mettiamo qui dentro no qui ok ma ripeto a questo caso non ci arriveremo mai perché passeremo sempre da da qui dentro ok abbiamo il metodo abbiamo tutto proviamo noi potremmo ancora stampare qui system.out .println grafo creato c'è una string .format in cui andiamo a stampare anche il numero di archi numero di vertici percento di virgola il numero di archi percento di string.format virgola dis.grafo .vertexset .size per stampare quanti vertici abbiamo inserito e invece dis.grafo .edgeset .size per stampare il numero di archi inseriti println qual è il problema system.out .println con la string questo non mi è mai capitato forse ho sbagliato qualcosa ah sì nella string .format non ci va questa parentesi ma questa parentesi va qua giusto? sì ok adesso abbiamo questo metodo crea grafo possiamo richiamarlo dal controller quindi andiamo nel controller abbiamo detto noi vogliamo eh utilizzare il bottone analizza oggetti e quindi da qui richiamo dis.model .creagrafo che dovrebbe stamparmi in console grafo creato con x vertici e y archi ovviamente c'è un errore un errore nel dao nel test dao scusate perché gli abbiamo modificato il metodo list object con l'identity map commentiamolo tanto non ci interessa più provare il dao e proviamo a lanciare il nostro programma vediamo che succede lancio non so perché sia così lento eccolo qua clicco su analizza oggetti il programma è partito io vi posso assicurare che potremmo stare qui fino a domani anche fino a dopo domani anche fino tra un mese e questo programma non giungerebbe al termine ok dunque benché la procedura logica sia corretta andiamo a vedere perché questo programma non terminerà mai almeno in tempi ragionevoli e vediamo proprio perché questo approccio che abbiamo seguito può funzionare solo in alcuni casi ok se voi riuscite a individuare a priori che questo metodo può funzionare mettetelo pure in pratica anche all'esame però bisogna capire se invece questo metodo non può essere utilizzato perché altrimenti il rischio è di non passare l'esame nonostante il codice sia concettualmente giusto questa query se guardiamo qui in basso ci mette 0,8 millisecondi d'accordo? quante volte noi andiamo ad eseguire questa query? beh la stiamo andando ad eseguire all'interno di un doppio ciclo for in cui ogni ciclo for scorre tutta la lista degli oggetti quanti oggetti ci sono? andiamo a vedere qui anzi possiamo farlo si va bene struttura non so se qui ce lo dice contenuto eccolo qua 85.581 oggetti diciamo 85.500 allora vediamo un po' apriamo una calcolatrice e chiediamoci noi stiamo facendo un'operazione che dura 0,8 millisecondi quante volte? per 85.500 per 85.500 perché siamo all'interno di un ciclo for annidato sono non so quanti millisecondi proviamo un po' a copiarli e andiamo a vedere quanto vuole dire mi sembra siano 5 miliardi di millisecondi quindi milliseconds to day ops ho scritto male va bene me l'ha preso copiamo qui incogliamo sono 67 giorni e un po' quindi il nostro programma per terminare avrebbe bisogno di 67 giorni ovviamente non possiamo aspettare tutto questo tempo d'accordo? quindi il questo approccio qui che sembra il più semplice si può attuare sarebbe meglio pensare subito al metodo che vi farò vedere a breve ma possiamo pensare di metterlo in pratica solo se il numero di vertici è molto basso ok? in questo caso avevamo 85.000 vertici che in un doppio ciclo for fa un numero spropositato e quindi stiamo facendo un numero spropositato di query e purtroppo questo questo metodo non è non è fattibile in pratica come possiamo migliorare? beh ci so il modo di fare di procedere è quello di far fare più operazioni in un colpo solo al database invece di fare una query semplice più volte ne faccio una un po' più complicata che mi restituisca un po' più di informazioni il primo passo che potremmo fare è quello di andare a bloccare un solo oggetto ok? io dall'esterno ricevo un singolo oggetto e restituire tramite la query tutti i suoi adiacenti e quindi tutti gli oggetti che sono stati esposti con lui insieme in determinate mostre quindi io suppongo di non avere l'oggetto 2 ma di recuperarmi una serie di righe in cui il primo elemento è un adiacente dell'oggetto che io specifico qui quindi e o 2 punto object id in cui il secondo elemento di ogni riga sia quante volte questo oggetto è apparso insieme a questo in una determinata mostra ovviamente avendo inserito questo oggetto qui nella select e avendo una funzione di aggregazione ci servirà una group by e quello che possiamo anche imporre è che questi oggetti siano diversi da quello che stiamo tenendo in considerazione quindi e o 2 punto object id diverso da ok e o 1 punto object id ok prendiamo tutti gli adiacenti a questo oggetto e andiamo a contare quante volte sono stati esposti insieme lanciamo la query abbiamo un errore nella sintassi vediamo dove where and in ok sì il diverso avevo sbagliato a scrivere il diverso vedete abbiamo una lista di oggetti con un conteggio a fianco che mi sta a indicare quante volte ognuno di questi è stato esposto insieme all'oggetto di input diciamo così o quanto ci ha messo questa query 23,9 millisecondi 23,9 millisecondi a questo punto quante volte eseguirò questa query beh io immagino di eseguire questa query una volta per ogni oggetto oggetto che sto analizzando quindi di nuovo non abbiamo più il ciclo annidato abbiamo solamente un unico ciclo fordove per ogni oggetto andiamo a prenderci gli adiacenti diciamo così nel grafo quindi 85.500 per 23,9 vediamo un po' se è un ordine di grandezza più ragionevole 83.000 o 85.000 non mi ricordo forse 85.500 cambia poco per 23,9 vediamo un po' copiamo andiamo a vedere quanti quanto sono questi millisecondi non siamo più nell'ordine di grandezza dei giorni siamo nell'ordine di grandezza dei minuti e ancora tanto 34 minuti proprio perché questo è un db che ha molti elementi al suo interno quindi perché non fare di meglio e arriviamo all'ultimo approccio quello che se implementate sempre siete sicuri di arrivare a conclusione in un tempo ragionevole perché non fare così perché evitare di bloccare anche questo e pensare di farci dare direttamente dal db con un'unica query una serie di coppie oggetto 1 oggetto 2 dove il count asterisco sia il peso da mettere nell'arco tra i due oggetti ok quindi mi faccio dare tutto in un'unica query queste sono le coppie di vertici nel grafo che andranno collegate con un arco che avrà questo determinato peso ovviamente il join della tabella con se stessa rimane anche questo controllo rimane possiamo fare di meglio perché anche qui come abbiamo già fatto questo ragionamento per il doppio ciclo for annidato anche qui avremo le coppie oggetto 1 oggetto 2 ma anche oggetto 2 oggetto 1 ok quindi per evitare questo potremmo semplicemente imporre al posto del diverso che l'id dell'oggetto 1 ad esempio sia sempre maggiore dell'id dell'oggetto 2 in questo modo avremmo solo le coppie una volta sola quindi avremmo la coppia 2 1 ma non la coppia 1 2 questo è il trucchetto che andiamo a effettuare direttamente nel db per non dover fare questo questo filtro dopo tramite codice java ovviamente ovviamente anche la group by va modificata aggiungendoci l'informazione di e1 quindi ricapitolando questa select mi ritorna una serie di coppie di id in cui l'id al primo posto è quello dell'oggetto 1 l'id al secondo posto è quello dell'oggetto 2 il count asterisco mi dice già se quei due oggetti che hanno quei determinati id andranno collegati e con quale peso come fa come faccio far questo faccio join della tabella con se stessa impongo che i due id siano diversi in particolare che il primo id sia maggiore del secondo per evitare di controllare due volte la stessa coppia e faccio la group by sul count proviamo a lanciare la query ovviamente abbiamo sempre errori vediamo dove e uno oggetti d ah manca una end qua probabilmente no non ancora abbiamo due end scusate ok vedete qui ho tutta questa serie di coppie che saranno i miei archi diciamo così questa query ci ha messo un secondo io in un secondo ho tutte le informazioni che mi servono per creare il mio grafo vedete come abbiamo siamo passati dall'ordine di grandezza dei giorni a un secondo perfetto direi che possiamo procedere con questa soluzione anche nel nostro progetto eclipse qual è l'unica cosa in più che ci servirà rispetto alla query iniziale che abbiamo fatto la query iniziale che abbiamo fatto ci restituiva un numero che era il peso e noi andavamo a prenderlo semplicemente con una getint e restituivamo una int un intero in questo caso l'informazione è più complessa perché abbiamo due id e un peso che noi andiamo a prenderci dal db e utilizziamo poi per creare gli archi quindi ci servirà una classe di supporto per estrarre queste informazioni dal dao e direi che possiamo crearci questa classe nel model sarà molto comune farlo anche nei prossimi esercizi se vorrete seguire questo approccio numero 3 che sappiamo essere il più efficiente classe che chiamo adiacenza cosa conterrà questa adiacenza 2 id in questo caso sono degli interi chiamiamo obj1 l'oggetto 1 public integer obj2 interi e poi avranno il peso in questo caso anche il peso un intero tutto qui ci facciamo definire il costruttore e il get resetter eccoli qui a questo punto la classica domanda serve implementare anche i metodi hash code e equals in questo caso tipicamente no perché questa classe la utilizzeremo proprio solo per recuperare le informazioni dal DAO e non andremo a inserire queste adiacenze all'interno di hash map o hash set se lo fate comunque non cambia niente non è un male l'importante è avere in mente come utilizzeremo questa classe io non li definisco perché so già che non utilizzerò nessuna mappa e nessun set per questo tipo di oggetti bene quindi vado nel DAO e al posto di questo metodo getPeso che abbiamo visto purtroppo non funzionare mi definisco un metodo che mi ritorni direttamente tutta la lista di adiacenze che io estraggo dal DB get adiacenze import ok direi che non servono parametri in questo caso perché appunto tutto il lavoro lo facciamo fare al DB quindi string SQL la vado a prendere da qui l'abbiamo appena fatta la incollo e la sistemo lavoro noiosissimo quindi togliamo gli apici le scende magari ridefiniamo il count asterisco come es peso via gli apici questo spazio anche via ok ci siamo poi copiamo incolliamo le solite righe di codici quindi la connessione il try catch ovviamente senza questa return il prepared statement in questo caso non abbiamo parametri da passare alla query la eseguiamo in questo caso sì che ci aspettiamo più di una riga nei risultati quindi while res punto next ogni riga è un'adiacenza quindi noi dobbiamo prevedere di avere una lista di adiacenze che poi ritorneremo me la vado a creare all'inizio adesso new array list di adiacenza e per ogni riga del db aggiungo un elemento a questa lista adiacenza punto add new adiacenze di che cosa andiamo a prenderci le varie informazioni qui possiamo anche ridefinirle per semplificarci la vita obj1 e as obj2 in questo modo possiamo recuperare res punto get int obj1 che ho appena ridefinito virgola res punto get int obj2 virgola res punto get int peso ovviamente in questo momento questo peso potrebbe anche essere 0 saremo poi noi che dal modello filtreremo questi queste adiacenze per cui non andrà inserito l'arco qual è il problema adiacenza non adiacenze ok adiacenze è la lista che ho creato qui adiacenza invece è la classe che modella singole adiacenze usciti dal while chiudo la connessione e ritorno le mie adiacenze se per caso c'è qualche problema ritorniamo null così il compilatore non si arrabbia oh benissimo adesso noi con questo metodo qui abbiamo praticamente tutto il lavoro fatto perché noi dal nostro modello innanzitutto commentiamo non funziona cioè non giunge a termine perché in realtà concettualmente funziona perché ci sono troppi vertici e facciamo troppe query al database quindi lo andiamo a commentare source edit non lo trovo non lo trovo non lo trovo vabbè lo commentiamo a mano togliamo queste ok approccio 2 mi faccio dare dal db direttamente tutte le adiacenze quindi for posso già direttamente scorrere le adiacenze a in dow punto get adiacenze e per ognuna di queste vado ad aggiungere il mio arco se la adiacenza ha un peso maggiore di zero if a punto get peso maggiore di zero graphs punto add edge di punto grafo attenzione qui qui torna in ballo l'identity map è per questo che l'abbiamo anche creata nella adiacenze abbiamo salvato solo degli interi che sono gli id nel grafo stiamo mettendo degli oggetti art object quindi riusciamo ad utilizzare efficientemente l'id map per recuperarci l'oggetto desiderato id map punto get d a punto get obj1 a partire dall'id che abbiamo salvato nella adiacenza andiamo a recuperarci l'art object relativo che noi avevamo già salvato nella nostra identity map facciamo la stessa cosa per il nodo destinazione obj2 ok a punto get peso in questo caso addirittura non dobbiamo nemmeno più controllare l'esistenza o meno a priori dell'arco perché noi le coppie diciamo così multiple 1 2 2 1 le abbiamo già escluse direttamente nella query direttamente nella query ponendo id1 maggiore di id2 ok dopodiché se questo controllo lo mettete questo controllo in più lo mettete non è che il programma continua a funzionare quindi va benissimo lo stesso però in questo caso io non lo aggiungo perché so che l'ho già fatto tramite tramite la query basta tutto qui vedete pochissime righe di codice il più del lavoro che abbiamo fatto è nella query in teoria in un secondo io dovrei circa dovrei riuscire a crearmi il grafo proviamo ci mette un po' più di un secondo perché qui abbiamo anche tutta l'interfaccia grafica eccetera c'è altro codice che gira non c'è solo la query però circa in 1-2 secondi noi riusciamo ad avere un grafo di 85.581 vertici e 399.000 archi se vogliamo questa informazione la possiamo anche stampare sulla sull'interfaccia grafica magari prevediamo due metodi del modello che ci restituiscano la grandezza di questo grafo quindi ad esempio esponiamo il numero di vertici chiamiamolo n vertici semplicemente ritorniamo this punto grafo punto vertex set punto size facciamo lo stesso con gli archi return this punto grafo punto edge set punto size così che evitiamo questa stampa su console ma dal controllore andiamo a richiamare questi due metodi per stampare su l'interfaccia grafica quindi dal controller creo il grafo e poi stampo txt si chiama result punto append text string punto format grafo creato percento di vertici virgola percento di archi e come parametri andiamo a prendere dal modello dis punto model punto n vertici virgola dis punto model punto n archi proviamo un po' testo ok ci siamo grafo creato in modo molto rapido con queste informazioni qui ok siamo giunti al termine abbiamo fatto abbiamo fatto una carrellata di strategie per creare questi grafi strategie che si possono replicare anzi si devono replicare anche negli esercizi seguenti anche all'esame io vi consiglierei sempre di imparare bene questo secondo approccio in cui facciamo fare praticamente tutto il lavoro al db ovviamente poi da esercizio esercizio ci sono alcune differenze ma concettualmente questo questa è la strategia perché purtroppo l'approccio 1 sebbene sia più semplice funziona solo quando abbiamo dei database in cui ci sono pochi elementi. quindi la prima cosa da fare se volete proprio utilizzare l'approccio 1 è andare a vedere quanti vertici ha il grafo se questo numero è sufficientemente basso potete rifare i conti che abbiamo fatto anche in questa lezione allora si può pensare di implementare anche una soluzione del genere altrimenti l'unica soluzione è far fare del lavoro in più al database spero di essere stato chiaro e ci vediamo poi nelle prossime lezioni per andare avanti con questi esercizi e magari anche risolvere il punto 2 di questo esame grazie e buona serata a tutti